Un'immagine simbolo del terremoto aquilano, il palazzo della prefettura, con quella scritta sbilenca in biligo sopra l'ingresso, osservata in silenzio anche dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Un edificio antico e di pregio completamente devastato, sotto cui le maciere è morta anche una persona. Oggi, oltre sei anni dalla catastrofe, finalmente la buona notizia. Dopo un lungo e complesso itali, lavori da 17,5 milioni di euro affidati a italiana costruzione SAC di Roma partiranno il 1 gennaio 2016, con conclusione prevista nel giugno 2017. Un'opera all'avanguardia hanno assicurato oggi in conferenza stampa l'assessore alla ricostruzione Pietro Listefano, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna Roberto Linetti. Visto che l'intervento prevede, oltre ad un attento restauro conservativo, anche la massima coibentazione termica e bellissimi cortili e porticati interni, inoltre, saranno aperti alla città e diventeranno un nuovo luogo di passeggio per l'Aquila che verrà. Noi oggi siamo a proclamare un giorno di festa, ma non solo per la provincia, ma credo soprattutto per la città dell'Aquila che tornerà ad avere un pezzo di quartiere, un pezzo di territorio importante. Un progetto bellissimo perché si parte dall'impianto del convento agostiniano, si recupera un palazzo del 400, insieme ad esso si rimette dentro l'Aquila, come ascoltato il presidente della provincia, un luogo per il territorio che è quello della sala dei sindaci e un palazzo più sicuro perché quando ho visto la prima volta del progetto, un grandissimo danno e delle aperture su muri maschi che ne avevano indebolito la struttura, adesso invece è ultra sicuro.